Si è svolto ieri sera il Consiglio Comunale a Capodorlando. Visti molti temi caldi da trattare, il sindaco Ingrillì e la sua giunta si sono trattenuti a Palazzo Europa fino a tardanotte. Tra i punti principali all'ordine del giorno spicca sicuramente quello dei tributi locali. Abbiamo approvato un regolamento che sancisce definitivamente che i tributi comunali devono giocoforza essere pagati. Abbiamo preso la palla al balzo rispetto a un emendamento presentato sul decreto crescita, poi diventato legge, che prevede financo la chiusura delle attività commerciali che sono morose rispetto al pagamento dei tributi. Questa, secondo la maggioranza consigliare, è stata un'operazione di equità perché ci sono cittadini che pagano i tributi e che hanno diritto ad avere servizi, servizi che hanno anche coloro che non pagano e quindi non sono messi di certo sullo stesso piano. Con questo regolamento che tra l'altro dilaziona la morosità più avanti nel tempo, quindi si dà un'ulteriore possibilità a coloro che non possono pagare i tributi in tempo, crediamo di aver fatto un'operazione di equità. Un altro punto importante all'ordine del giorno è stato sicuramente il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista palermitano Piero Fagone. Fagone, per oltre 30 anni presidente del comitato organizzatore della mostra nazionale di pittura a vita e paesaggio di Capodorlando, nell'arco della sua vita ha ricoperto numerose e importanti cariche, rimanendo però strettamente legato alla cittadina, intessendo lunghi e durevoli rapporti d'amicizia proprio a Capodorlando. È stata veramente un'emozione, in sala veniva in ibrida ad ascoltare anche gli ex sindaci Nina Messina e l'avvocato Antillo che hanno testimoniato l'opera di Fagone e il sindaco Ingrillì che ha ripercorso gli anni nei quali Fagone ha prestato la sua attività culturale a Capodorlando, ha portato in alto il nome di Capodorlando in tutto il mondo, è stato uno dei protagonisti principali di una stagione fantastica di Capodorlando che è quella della mostra di vita e paesaggio di Capodorlando che per più di 30 anni ha portato il nome della nostra cittadina fuori dai confini regionali e direi io anche nazionali.